Grazie, il mio sarà veramente soltanto un saluto anche perché ero venuta per ascoltare, perché credo profondamente nella capacità di ascoltare e nella sua importanza. Saper ascoltare senza pregiudizi e senza preconcetti è veramente fondamentale per poi formulare ragionamenti che prendano spunto da questi ascolti e possano portare ad un percorso costruttivo e oggi devo dire c'era molto da ascoltare. Non ho potuto ascoltare tutto ma naturalmente ho letto anche qualcosa, ho letto la relazione dell'onorevole Orlando e i punti devo dire estremamente importanti relativi ad un diritto penale minimo, all'ufficio del giudice, al tema fondamentale della custodia cautelare e devo dire che si tratta di considerazioni, di spunti seri, importanti e certamente meritevoli di approfondimento. Ho ascoltato purtroppo solo una parte del discorso del nuovo Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e anche lì ho trovato degli spunti importanti sul tema dei costi della giustizia e sul fatto che dobbiamo smettere di considerare la giustizia un costo. La giustizia è un elemento fondamentale della produttività, dell'economia e dell'assetto del Paese e è qualcosa che produce, che produce non solo dal punto di vista meramente monetario, produce cultura, produce impegno, produce sviluppo sociale e sviluppo morale. E dunque anche questo mi è sembrato uno spunto importante dell'ascolto. Ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Ferranti sul tema della corruzione, un tema sul quale stiamo occupando tutti molto tempo e molto impegno giustamente perché è un tema importante, è un tema sul quale noi tutti vogliamo dire qualcosa, un tema sul quale bisogna intervenire in via prioritaria. L'abbiamo detto e continuiamo a ribadirlo, uno dei temi sui quali ci siamo anche intrattenuti ancora oggi nella riunione con i capigruppo della maggioranza che sostiene il Governo. Una riunione importante, una riunione che introduce un metodo che non è come qualcuno riduttivamente ha detto il metodo del salotto davanti al caminetto, anche perché la stagione non è quella dei caminetti sinceramente, ma è quello di un dialogo importante, di un'istruttoria da svolgere sul piano tecnico e politico, perché è questo che contraddistingue i rapporti tra un Governo tecnico ed un Parlamento, prima di dare la parola al Parlamento, che è l'unico soggetto istituzionale che ha titolo per decidere ed è un concetto così ovvio che sembrerebbe inutile ribadirlo se non fosse che qualcuno mette in dubbio che ci sia questa volontà di ossequio al Parlamento. Io credo che ribadire invece che l'unico soggetto istituzionale che ha titolo per decidere e del quale io personalmente e tutto il Governo abbiamo il massimo rispetto sia importante. Ascoltare, dialogare e poi decidere attraverso il Parlamento. Questi mi sembra che siano tre momenti fondamentali della evoluzione e dell'approfondimento del tema della giustizia. Se su ogni argomento che vorrà essere messo sul tappeto si potranno seguire questi tre punti fondamentali, io credo che si potrà andare ancora avanti sul tema della giustizia. Grazie.